Puoi cambiare il metodo di pagamento scelto in fase di acquisto di un servizio Aruba in ogni momento e pagarlo direttamente dalla tua area clienti. Se l'ordine da pagare è per un servizio o prodotto hosting di Aruba, collegati alla tua area clienti andando su managehosting.aruba.it e inserisci username del tipo 123456-aruba.it, la password e clicca su Accedi. Vai su Paga in corrispondenza di un ordine in attesa di pagamento. Nella pagina successiva puoi scegliere di pagare online tramite carta di credito o account PayPal oppure visualizzare le coordinate bancarie per effettuare un bonifico bancario tramite bollettino precompilato per visualizzare le coordinate bancarie clicca su Estremi bonifico bancario. Per scaricare il bollettino precompilato clicca su Download bollettino precompilato e successivamente seleziona la voce Genera in corrispondenza dell'ordine da pagare. Qui è possibile scaricare direttamente il bollettino oppure inserire l'indirizzo e-mail sul quale si desidera riceverlo. Per pagare con carta di credito o PayPal è possibile cliccare nei relativi metodi presenti sul menu oppure dalla home. Seleziona il metodo di pagamento scelto dalla sezione Paga un ordine online e clicca su Paga subito. Il numero dell'ordine comparirà automaticamente, quindi clicca su Procedi. Puoi anche scegliere se usare una carta di credito o un account PayPal già utilizzato o inserirne uno nuovo. Cliccando su Procedi in entrambi i casi, sarai reindirizzato su un server sicuro dove eseguire la transazione.